Bentornati sul canale, siamo alla fine, siamo agli sgoccioli, sono gli ultimi giorni dell'anno e oggi parliamo di una serie televisiva che ho visto su Netflix ed è una serie televisiva coreana, quindi fa parte del mio grande amore, della mia grande passione per le serie coreane, come sapete mi è scoppiato praticamente quest'anno, nel 2021 mi pare proprio, perché ne ho viste alcune e ogni volta che ne ho vista una nuova ho pensato questa è talmente bella che non ci sarà una serie più bella, perché questi personaggi sono indimenticabili, perché mi sono affezionata a Tizio Caio Sempronio, perché i dialoghi sono stati interessantissimi, perché ci sono stati dei riferimenti poetici, insomma ogni volta era, secondo il mio modesto parere, l'ultima volta, la volta migliore, diciamo così. In realtà questo è successo per ben tre volte quest'anno ed ogni volta mi sono dovuta ricredere, ogni volta ho pensato più di così non si può andare ed ogni volta superavamo il limite. E anche con questa serie tv è successo, perché è accaduto proprio questo con questa serie tv che vedete qui, che mi ha coinvolto anche questa volta fino alle lacrime. Questa serie viene dopo Hi by Mama, viene dopo Mystic Pop a Bar, quindi viene dopo serie che mi sono piaciute tantissimo e devo dire la verità questa serie non è stata assolutamente da meno. La protagonista è una scrittrice di libri per bambini, ma una scrittrice un po' particolare, nel senso che lei stessa vive delle problematiche di sociopatia, diciamo così, è un po' sociopatica. E scopriremo all'interno della narrazione perché, del resto anche il titolo della serie, va tutto bene, non sta bene, questo gioco, diciamo così, di parole con il nome dell'ospedale psichiatrico all'interno del quale è ambientata la serie. Si tratta di 16 episodi dove vedrete tantissime macchine Volvo, strade coreane bellissime, lunghe, immagini veramente scenografiche e quindi non vi innamorerete soltanto dei personaggi, ma anche della Corea. Quindi vi dicevo la protagonista è questa ragazza bellissima che scrive libri per bambini, lei stessa però vive una situazione emotivamente difficile con le altre persone e conosce casualmente, diciamo così, l'altro grande protagonista che è un operatore socio-sanitario il quale lavora all'interno di questo ospedale psichiatrico. In realtà questo ragazzo è costretto a spostarsi molte volte durante l'anno, diciamo così, o comunque una volta all'anno si deve spostare per forza perché ha un fratello con l'autismo, è un fratello più grande, il quale ha una fobia per le farfalle e quindi quando arriva la stagione, diciamo così, delle farfalle devono cambiare città e devono cambiare lavoro. Nell'ambito di tutti questi passaggi, diciamo così, di casa, incappano di nuovo nel paese dove sono nati e qui c'è l'ospedale che si chiama Ok, tra l'altro, dove è ambientata poi la narrazione. Insieme a loro ci sono anche altri personaggi, cioè l'amico di sempre, l'amico di sempre del protagonista che lo segue un po' ovunque, lui è suo fratello, lo segue un po' ovunque perché in un certo senso ha una passione, poi vedrete a scoprire in che senso. C'è una storia d'amore? Sì, c'è, ma una storia d'amore estremamente complicata perché comunque c'è questo fratello che è una responsabilità enorme per il protagonista, nel senso che, oltre ad avere appunto l'autismo, è il suo unico punto fermo, nel senso che ha sempre badato a lui perché questi due fratelli sono praticamente soli da sempre, vedrete durante la relazione perché, e quindi il protagonista ha sempre avuto questo peso, diciamo così, peso in tanti sensi, positivo e negativo, di questo fratello che è una sua grandissima responsabilità. Quindi quando si innamora, diciamo così, non sa che fare perché è spinto tra quello che vorrebbe essere la sua vita futura, perché comunque ha superato i 30 anni, quindi comunque si approccia ad essere una persona che ha anche voglia, diciamo, di costruirsi comunque una relazione stabile e quello che è invece suo fratello, il quale ha delle grandissime difficoltà. tra i personaggi che troverete c'è ad esempio la mamma di una delle colleghe del protagonista, poi c'è l'editore, il personaggio dell'editore di questa casa editrice che appunto ha a che fare con la protagonista, la quale vive in una casa pazzesca che è stata costruita dal padre che era un grandissimo architetto, una casa in Corea che però vi farà tornare indietro nelle vecchie case inglesi, quindi ritroverete una vecchia casa inglese all'Agata Christie per intenderci in Corea assolutamente. I personaggi sono adorabili e ancora una volta supererete tutti quanti le difficoltà legate al seguire la serie sottotitolata perché non è stata doppiata questa prima stagione. Io spero sempre che mettano mano dei doppiaggi serie su queste serie coreane come hanno fatto con Squid Game perché meritano assolutamente, quindi spero sempre che una seconda stagione magari arriverà sottotitolata, speriamo. Quindi vi innamorerete di questi personaggi, seguirete le loro vicende, mangerete insieme a loro, scoprirete la cucina coreana insieme a questi personaggi che vi faranno amare e forse diciamo noi italiani con tutta la passione che abbiamo per il cibo ci intendiamo molto con i coreani perché anche loro hanno questa grandissima passione per il cibo, quest'idea che il cibo debba essere convivialità. Poi vi stupirete perché ci sono dei riferimenti divertenti, ad esempio la pizzeria che gestisce l'amico del protagonista si chiama pizza al volo. C'è questa voglia di scrivere al volo ma non ci si riesce e quindi diventa al volo tutto attaccato. Poi, poi ha tantissime altre cose, personaggi indimenticabili, situazioni veramente molto delicate, cioè in qualche modo un bellissimo spaccato non solo di cultura di società della sud coreana ma anche un'attenzione, una delicatezza nei confronti di certe tematiche soprattutto legate alla malattia di mente, alla malattia mentale, come in qualche modo possa essere trattata con, debba essere trattata con i guanti e con rispetto. Il dottore, uno dei dottori che lavorano in questo ospedale psichiatrico è forse uno dei personaggi che mi è piaciuto di più perché ci fa vedere proprio come l'approccio nei confronti di queste patologie debba essere un approccio più delicato possibile, più rispettoso possibile, più attento possibile, il più competente anche possibile. Come l'improvvisazione in questi casi ci sia ma debba essere gestita comunque dal cuore, dall'emotività. Mi è piaciuto moltissimo il modo in cui ad esempio la protagonista reagisce in determinate situazioni e in molte di queste situazioni mi sono ritrovata non soltanto a fine ma anche mi sono ritrovata a pensare anch'io vorrei reagire così in certe situazioni e questo modo di fare e poi lo scoprerete vedendo la serie ma non solo perché è un modo di fare un po' un firouge diciamo delle serie coreane, un approccio forse legato comunque anche alla loro religiosità, il mutismo, io questo non lo so, lo chiedo a voi se ne sapete di più ma un approccio nei confronti delle situazioni, un mood, un atteggiamento nei confronti delle situazioni che ho trovato estremamente motivante e in certe situazioni anch'io vorrei reagire così. Non è sempre facile perché siamo sempre un po' come direbbe Meg Ryan, c'è posta per te, spesso ci viene difficile dire le cose come stanno, ci viene difficile avere subito la battuta pronta però ragazzi miei quando una persona si comporta male, quando una persona è cattiva perché vuole esserlo, io credo che debba essere punita, voi cosa ne pensate? E che debba essere punita anche subito e non dopo e questo è una cosa che mi piace molto delle serie coreane. Non vi dico in che situazioni si verifica tutto questo perché vi toglierei sicuramente buona parte, buon gusto nella visione però se c'è qualcuno di voi che sta pensando Dio non è sottotitolata come faccio, vi dico andate avanti perché sicuramente la prima serie non sottotitolata sarà difficile, la seconda un po' meno e la terza vi va giù come una volata e poi vi piacerà assolutamente ascoltare il coreano, calarvi all'interno di una cultura. Io vi dico questo e poi chiudo, io ho visto Squid Game come credo tutto il resto del mondo e ovviamente in coreano sottotitolato, poi l'ho rivista anche doppiata e vi devo dire la verità dopo tutte le serie coreane comunque che ho visto mi è piaciuta di più in coreano, quindi mille volte di più i sottotitoli. Un po' perché in doppiaggio e mi perdonino non l'ho trovato particolarmente azzeccato perché l'intonazione particolare della voce del protagonista l'ho trovata un po' troppo vicina all'interazione coreana e non è un'interazione italiana e quindi insomma mille volte di più, ripeto io ho moltissimo i doppiaggi però in questo caso forse perché mi sono talmente affezionata al sentire tutto in lingua originale, lingua originale tutta la vita ragazzi miei, quindi cercate di ascoltare il più possibile le cose in lingua originale ovviamente con i sottotitoli perché la lingua è cultura e quindi tantissime cose, tantissimi aspetti della cultura, soprattutto di una cultura così diversa dalla nostra, passano proprio attraverso la lingua e quindi se un qualcosa non l'ascoltate diciamo doppiato vi perdete delle parti insomma diciamo così. Per cui sicuramente a questa serie do 5 su 5 perché è assolutamente delicata, ci sono anche degli elementi di crime, di mistero perché comunque la protagonista ripeto scrive libri per bambini molto particolari ma sua madre ad esempio era una famosa scrittrice dei gialli e quindi c'è tutto questo ambiente editoriale diciamo così perché poi abbiamo parlato no anche di questo personaggio dell'editore insomma della sua segretaria di tutto questo mondo che ruota intorno alla stesura di questi libri e le librerie che vi piacerà e poi c'è questo ospedale psichiatrico con questi personaggi alcuni sono pazienti che insomma farete difficoltà a scordarvi. Si piange molto quindi preparatevi i Kleenex ma questo accade in tutte le sere coreane dove si piange abbondantemente, dove gli uomini piangono, dove piangono un po' tutti e piangete naturalmente anche voi vorrete mica privarvene, piangono tutti, piangerete anche voi però insomma sono quei momenti veramente di pianto bello, di pianto che poi vi lascia comunque addosso anche un po' di riflessione poi ci sono questi romanticismi ragazzi miei che solo loro riescono a fare perché ci sono pochissime fusioni ma quelli e i baci diciamo così e gli abbracci sono veramente estremamente romantici quindi se state cercando una storia che è una via di mezzo tra una storia riflessiva, un crime, una storia d'amore, un qualcosa che vi faccia pensare, una bella riflessione sulla malattia e sull'inclusione, su come è importante accettarci tutti per come siamo e cercare di trovare il bello e il buono in ogni cosa senza cercare di cambiare le persone. Insomma se state cercando tutto questo questa serie fa per voi e quindi io vi auguro buona visione e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!